Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa è la mia squadra dell'Ultimate Team di FIFA 20 Laxalt, Inglese, Palacio, Buonaventura, Cristante, Cassi, Tutino, Ranocchia, Juan Jesus, Musacchio, Sportiello In panchina invece come potete vedere ho Kampl, Gomis, Orn, Alex Telles, Coman, David Lewis, Lindelof, Brozovic, Renato Augusto, Joemario, Basquez, Weigl e Mihailovic, allenatore Saluto Samobrina, Citta, Ale, Festival, Magellan, Ilaria, Aliciotola, Mark Corp, Tim, Peter, Leo, Tassoni, Domenico, Michi, Robby, Tony, Cante, Mariuccia, Giulia, Alessio, Uga, The Rock, Orto, Ivan Drago, Bulluni, Mr. Bike TV, Popone, Mac Finder e adesso vi mostrerò altri calciatori che non sono né nelle riserve e né nei sostituti ma prima di farlo questa è l'intesa della squadra e questa è la valutazione questo è lo stemma adesso vi mostrerò anzi no ci ho ripensato non vi mostrerò questo è lo schema della rosa 4-3-3 stavo giocando online oggi e cosa è successo contro il mio avversario stavo vincendo 6-3 quella partita è finita in pareggio 6-6 potevo vincerla ma purtroppo è andata così ho parigiato da guardare anche le posizioni in cui ho messo i calciatori non vi mostrerò non vi mostrerò non vi mostrerò Grazie. 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 Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale. Arrivederci al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto.